buongiorno ben ritrovati con podismo e atletica vedete subito le immagini qui di empoli prima della seconda prova dei campionati società fabio sinatti che insieme a moreno sinatti commenteranno diciamo questa trasmissione riferita proprio al cross di empoli la seconda prova dei campioni società che ha visto al via come vedete un bel gruppo di partecipanti circa 180 fra negli assoluti e le ignores e qui ovviamente era importante fare risultato per quanto riguarda poi la missione a campionati italiani che si svolgeranno domenica prossima a torino moreno sì era una bellissima giornata un po ventosa però ecco molto luminosa quindi anche le immagini sono venute benissimo come si vede e finalmente si era la seconda prova quella che dava le classifiche ormai erano quasi fatte però ecco c'era da da per qualche società c'era da insomma da completare un pochino la cosa si e ha dominato come nella nella prima prova che prova il parco parco a piappuane però c'è da dire che questa in questo proprio il nostro kalil jassine ha dato filo da torcere insomma è stato un protagonista ecco come vedete già subito insieme a che pengettice che era in testa insieme a terrasi hanno condotto fin dalle prime battute proprio nella testa della corsa ha subito dietro addirittura ai bel murad l'altro atleta diciamo italo marocchino che in quell'occasione purtroppo non ha portato un punteggio perché non avevamo completato tutte le operazioni altrimenti saremmo giunti anche terzi come società abbondantemente e vabbè sarà la prossima volta ora proprio naturalizzato italiano quindi tutte le gare che che farà sarà italiano ecco fra l'altro dire che il murad è stato chiudato in partenza quindi ha avuto dei problemi sia anche dal punto di vista proprio della della spinta che poteva assumere perché poi la presa un po nelle caviglie e addirittura a un certo punto si è collocato in quarta posizione quindi veramente un grande un grande perfetto ecco lo vediamo proprio qui subito dietro a terrasi e il calile poi vediamo murad atleta che non è più giovanissimo ma sarà sarà un protagonista per i prossimi campionati italiani di staffette proprio sua a torino in cui cerchiamo di vissare il successo dello scorso anno sarà un po difficile comunque ho visto anche già gli iscritti sono molte le formazioni che partecipano a questa questa staffetta beh questione molte volte anche di fortuna trovare un componente della staffetta che non sta effettivamente successivamente bene può capitare di tutto si la squadra diciamo a retina potrebbe essere competitiva perché fra l'altro con murad ci sarà anche cardelli ci sarà purtroppo non ci sarà guidelli perché è infortunato in questa occasione proprio se portano a questa circostanza a 500 anni dall'arrivo quindi veramente sfortunate poi c'è il fatichenti e poi vannuccini che è rientrato proprio rientrerà la prima gara proprio in occasione dei campionati italiani qui intanto vediamo chi pengetici poi il calile terrasi che in questa fase aveva diciamo staccato un po gli altri pochi vediamo vrancato poi vediamo murad del nista poi abbiamo visto anche mei insomma ecco quindi il meglio del meglio presente in toscana che poi è un meglio che si colloca anche a livello nazionale in maniera diciamo importante c'è da dire che questa a livello di partecipazione è mancato qualche società perché ormai era fuori dai giochi però con quelle società che potevano ancora dire la loro hanno portato a rinforzato anche la squadra certo ora qui ovviamente questo che è un percorso molto impegnativo spettacolare al tempo stesso questi queste varianti diciamo di saliscende hanno messo un po dura prova gli atleti intanto vediamo anche tartaglini che si è comunque comportato molto bene come alessandro annetti che è andato in crescita non sarà della partita nei tartaglini né annetti diciamo a campione italiani intanto abbiamo visto anche guidelli che fra l'altro si era posizionato bene in questa circostanza lui stava forzando per cercare proprio di ottenere un buon risultato poi il vecchio cardelli che sicuramente ancora brillantissimo questa affetta sicuramente della sua che esatto qui intanto abbiamo visto che ha perso un po posizioni e il calile in terza di terrasi e di chi pengetti c'è poi murad anche molto sempre posizionato nelle posizioni diciamo giuste della gara ecco midar che in questa in questa occasione ha recuperato il finale confronti di di murad però ecco sicuramente una gara molto molto è andato molto bene anche di bra direi una una prova importante taos zaccaria che sta crescendo e quindi ancora giovane quindi però non era neanche percorso adatto a lui perché questo finalmente è un percorso abbastanza impegnativo salito, discesa, curve, contro curve quindi cambio di ritmo continuamente in continuazione ecco c'era zaccaria e c'era le gambe abbastanza lunghe quindi come murad non sono percorsi proprio adatti per i loro fisici e però lo vedremo sicuramente meglio diciamo nel proseguo della stagione quando si comincerà anche andare in pista oppure a fare le gare diciamo medie distanza media diciamo anche su strada ecco qui ovviamente il cross serve anche come preparazione per quanto riguarda poi le fasi successive perché ricordiamo che fra due campionati italiani di cross poi ci si addentrerà un pochino più specificatamente nell'atletica leggera oppure le corse su strada ad Arezzo ci sarà un impegno una manifestazione importante campionati di società assoluti di atletica leggera l'11 e il 12 di maggio quindi sarà un altro grande appuntamento in cui vedremo proprio alle diciamo alle prese i migliori molti atleti toscani ma che non sono soltanto toscani sono anche a livello nazionale molti toscani fanno parte nazionale e quindi anche adesso la Bazzone esatto potremmo vedere anche lei il recente diciamo bronzo della staffetta ai campionati europei quindi sicuramente insomma ecco si prevede diciamo una bella parte di noi come abbiamo visto anche due anni fa in cui Arezzo è stata protagonista proprio dei risultati migliori anche a livello nazionale pertanto pensiamo che questo evento che riporta ad Arezzo l'atletica leggera di un certo prestigio possa poi sfociare diciamo anche in qualche risultato importante intanto qui torniamo alla campestre dove abbiamo visto comunque crescere molto progressivamente Alessandro Annetti in questa strada e qui abbiamo visto che Terrasi è passato avanti a Kippengete e Alcheniano veramente quindi una prova importante per Terrasi che forse per molti versi qualcuno non pronosticava diciamo vincitore di questa gara Terrasi è campione italiano di maratona quindi due ore e diciannove mi sembra di circa fatte a Ravenna lo scorso anno però sembrava quasi che non potesse fare risultati importanti nelle gare diciamo di mezzo fondo così ora è vero anche questo che è un percorso molto asciutto molto e quindi se non è una gara pesante può darsi che lui possa spingere però ecco è andato veramente molto molto forte è una bella corsa corre molto bene e qui ecco vediamo che Brancato va superato anche Yassin e Khalili in questa fase della corsa poi c'era May Massimo dietro poi Del Nista che ha ceduto come cederà anche a Fucecchi proprio nel finale insomma ecco quindi atleti che bene o male il meglio della Toscana erano presenti qui il meglio della Toscana considerando che erano quasi tutti fuori meglio dei tesserati perché c'è da dire che la Toscana sulle prime posizioni sono state 3-4 persone e qui vediamo proprio Terrasi proprio in questo percorso di erano due chilometri a giro quindi cinque giri abbastanza impegnativi con salite discese curve contro curve insomma quindi veramente messa a due prova anche i vari atleti percorso molto bello ma impegnativo bello veramente percorso è bello non annoia però sicuramente bisogna stare sempre concentrati perché c'è da salita passa la discesa poi c'è la curva certo qui vediamo Dibro intanto lo vediamo poi anche Cannucci è andato anche abbastanza bene anche lui è atleta che non disdegna diciamo i cross poi ecco dobbiamo anche registrare la costante presenza insomma di Cardelli nelle prime posizioni di Annetti ecco intanto il Calile che spinge molto forte fra l'altro poi proprio domenica scorsa a Canne è giunto sesto nella mezza maratona 1-7-48 quindi diciamo oramai si è stabilizzato sui risultati diciamo importanti pertanto ora gli manca quel salto di qualità che potrebbe permettergli veramente di arrivare a livelli anche importanti intanto abbiamo visto anche Taos, Zaccaria, Transitaria, insomma ecco quindi atleti che ovviamente sfruttano il cross per poter acquisire anche una preparazione che intanto abbiamo visto Alessandro Annetti poi vediamo Martinelli in questa frangente poi qui vedete ancora altri ecco che vediamo proprio quando si ferma Fabio Guidelli che è proprio un problema al tendine a circa 300 metri dalla conclusione pensate un po' a 400 metri dalla conclusione quindi veramente grande diciamo una situazione abbastanza particolare quindi intanto vediamo che addirittura a Terrasi gli fanno vabbè diciamo lì c'è una specie di sbaglio nella zona dell'arrivo poi keep in jettici al secondo posto poi per il terzo posto una volata finale in cui Yassine e il Calide che ormai ha uno sprint finale notevole batte barancato poi più staccate ancora May e Del Nista e quelli che stanno per arrivare al traguardo in una giornata come dicevamo molto ventosa e anche fredda addirittura vedete ancora con l'abbigliamento quanti e quant'altro comunque se non fosse stato un vento sarebbe stato un spettacolo poi abbiamo visto Dintino Dintino è il vincitore della cappella no Del Nista scusa Del Nista ecco poi vediamo Dintino in questo momento qui che batte proprio Midar nel finale avete involato anche per Midar poi Kurovic Adriano poi vediamo Murad che nonostante tutto arriva al decimo posto quindi due atleti della polisportiva progiana piazzati nei primi dieci non male poi abbiamo visto intanto anche Alessandro Tartaglini ecco che si è collocato diciamo nelle posizioni tutto sommato discrete e qui siamo passati invece a Fucecco poi Alessandro Annetti eccolo qua e qui sono volate che sono importanti anche per la classifica di società ovviamente un errore nostro nella valutazione diciamo dei regolamenti non ci ha permesso di ottenere il terzo posto nella classifica di società quindi quarto posto vabbè comunque tutto sommato buono e qui siamo passati invece a Fucecchio prova del Grand Prix quest'anno ci siamo trasferiti anche in questa zona diciamo molto molto importante perché qui ha origine proprio la presenza di del zepista Lambruschini poi ora non mi ricordo se c'è nato o se c'è abitato anche ci ha abitato sicuramente insomma ecco quindi Montanelli Indro Montanelli insomma il giornalista famoso la sanare di Nicoletta ecco qui siamo proprio nelle fasi preliminari prima della gara una gara che direi a detta diciamo di Alessandro Annetti abbastanza dura insomma con un percorso un pochino impegnativo anche se non mi sembrava più di tanto no 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 poi dopo si sente insomma ecco sembrerebbe che non fosse tanto nel centro città comunque tutto sommato carino come percorso tanti partecipanti fra la gara competitiva le staffette miste e le staffette normali circa 500 atleti giunti al traguardo quindi direi sicuramente non male e qui la presenza ovviamente degli atleti di di spicco atleti del Kenya che hanno dominato sia in campo maschile che in campo femminile questa competizione vediamo la la l'atleta femminile la vannucci che diciamo dopo la la protagonista principale la GATT era era lei insomma ecco da da potersi collocare nei primi posti della della classifica ecco qui intanto vediamo proprio nel centro di Fucecchio beh direi ben organizzata dagli amici dell'atletica Fucecchio insieme all'amministrazione comunale e poi ovviamente quello che tira un po' la barca qui è Ivano Libraschi giudice ma al tempo stesso organizzatore di questa di questa competizione che ha visto anche offrire diciamo un defibrillatore da parte del regalami un sorriso di di Giacomelli di Giacomelli che ha dato ex atleta adesso fotografo ufficiale quindi con le sue fotografie è riuscito sempre a recuperare dei fondi per donare mi sembra oltre 100 defibrillatori nelle varie competizioni quindi dotando le società di questo mezzo importantissimo e fra l'altro sono riusciti anche a raggiungere risultati importanti qui intanto vediamo anche la Volpi Francesca che faceva faceva la staffetta mista con Cristian Taras e vincono la loro staffetta ecco che vediamo proprio il palloncini anche per i vari i vari ritmi sì che erano collocati e sono stati molto precisi intanto vediamo Pellegrinelli ecco diversi gli atleti aretini presenti in questa in questa competizione addirittura anche il professor Vellutini presente nella nella gara con oramai i risultati diciamo tutto sommato non male ecco qui vediamo il gruppetto degli insegretori con Del Nista poi vediamo Daishun Canucci esatto quindi qui ci sono diversi diversi atleti che si sono piazzati nei primi poi qui abbiamo la che chiaramente sta spingendo molto forte fra l'altro terminerà in ora 13 e 33 quindi non male e qui Aibel Murad che sicuramente comincia a trovare i ritmi giusti per poter essere protagonista l'abbiamo visto dopo le cross dal primo cross di Firenze sta migliorando perché è stato un anno di inattività vuol dire tanto sicuramente è una società d'elite lui era una società d'elite insomma da dieci anni fa andava fortissimo quindi penso che adesso alla soglia di 40 anni potrebbe ancora fare qualcosa non tanto non tanto però portarsi bene in alcune gare sicuramente e qui vediamo Kippe Ingetich e Keach che già staccano il terzo Keach quindi questi tre atleti keniani del team Dionisi che prendono decisamente il volo vedete qui siamo in una parte diciamo un pochino interlocutoria nella zona industriale di Fuscecchio per poi dopo entrare invece nei punti un pochino più più belli più spettacolari della diciamo dell'Interland di Fuscecchio se il più bello c'è da dire è in un tratto dove si passa è una rotonda dove c'è dove c'è la più pubblica vedevi da una parte dall'altra qui intanto vediamo che c'è proprio francese poi ecco qui vediamo Dennista un pochino più staccato Cannucci insieme poi alla Gatte nel gruppetto del ecco Farate che poi vediamo quindi diversi atleti che poi D'Aisson e C'è da dire che per un paese come Fuscecchio è una buona 500 persone sono ma poi c'era anche c'erano altri 500 minimo non competitivi le scuole quant'altro qui intanto vediamo Giacomo Ragazzini che tutto sommato è andato discretamente cercando proprio di completare questa gara ha finito in 1-18-30 quindi direi non male 23esimo assoluto poi Graziani sta anche lui soffrendo però sta recuperando piano piano comincia a rientrare insomma ecco 33esimo la sua posizione mentre Pastorini è andato forse ha spinto troppo forte si era collocato nebri ecco qui lo vediamo inizialmente era rimasto un pochino attardata poi non male quindi vediamo invece la Vannucci che ovviamente saldamente ha la secondo posto quindi tutto sommato non male anche la sua posizione questa che è anche questa ormai sono molti anni ma anche lei è mamma quindi e qui vediamo anche questa zona anche particolarmente suggestiva questo qui sotto l'arco c'erano dei tamburi esatto quindi ecco ecco molto carina direi l'idea di avere dei percussionisti un po' in vari punti della città sicuramente lì da ritmo fra San Mignato e Fucicchi ci sono questi diversi gruppi diciamo anche storici che fanno queste cose e quindi anche sbandieratori eccetera anche questa è veramente molto molto carina qui intanto vediamo la Lagatte che sta spingendo forte qui c'è Murad insieme a Francese atleta dell'Atletica Reggio che stanno spingendo fortemente qui gli stacchi sono abbastanza consistenti dopo il primo tratto cominciano a prendere si sono i primi due poi dopo c'è quasi il vuoto perché esatto qui vediamo proprio Kim Pejetice e Coach che sono ancora insieme ovviamente davanti c'è Coach poi Kim Pejetice dietro però il favorito sicuramente è l'atleta che sta inseguendo in questo caso che vedete una spinta molto fluida e addirittura andranno diciamo a terminare con un tempo beh discreto perché senza impegni esatto senza essere stati impegnati un'ora in 0-3 no no non è male ecco qui abbiamo proprio il gruppo degli amatori dei camminatori ovviamente con iniziative anche qui di solidarietà che vengono un po' inserite in questo il gruppo Frates che erano impegnate poi ci sono quelli che hanno chiaramente anche poi determinati tempi che intanto vediamo farate insieme a a del Nista la Gatte che ha fatto proprio una corsa solitaria e qui vediamo ecco gli altri tre dell'altro terreno marocchino no comunque c'è da dire che escluso le prime posizioni i primi cinquanta diciamo che c'erano dei vuoti dei buchi dopo la cinquantesima posta un po' si era un continuo come tutte le gare come tutte le gare si si qui intanto abbiamo visto proprio annetti ragazzini che hanno fatto una corsa insieme quindi hanno sono stati molto accorti sono scesi sotto uno e venti insomma tutto sommato in una gara che ecco che vediamo Pastorini che invece purtroppo accusato in questa in questa occasione ha accusato forse la partenza troppo forte mi sembra che per lui dovrebbe essere la prima mezza maratona che ha fatto era più orientato sempre sulle gare un pochino più brevi poi è andato molto bene è andato molto bene anche Graziani poi Sisi ecco poi Stefano Sinatti che è arrivato nei primi dieci della categoria veterani qui Alessandro Annetti che sta spingendo molto molto bene ecco qui vediamo ancora altri altri atleti che si avvicinano verso il centro del della qui è quella rotonda che dicevo io poi c'era anche il cambio c'era anche il cambio della staffetta sì di vicino e quindi vediamo qui ecco sempre del Nista che fra l'altro poi stranamente non abbiamo visto al traguardo quindi non so che cosa sia successo negli ultimi negli ultimi due tre chilometri perché probabilmente è saltato perché non ha raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva all'inizio oppure perché non ecco qui intanto vediamo abbiamo visto insomma la testa della corsa con Kipo Ingerici sotto questo arco che fra l'altro è abbastanza caratteristico poi al secondo posto che c'erano ormai le situazioni dei primi tre atleti sembravano acquisite la lotta era per il quarto quinto posto forse il terzo poteva essere ancora recuperabile però i ritmi non sono così blandi ecco che vediamo proprio che è francese sì in quella salitella sul cavalcavia qui siamo circa quattro chilometri dall'arrivo esatto e quindi ecco vediamo che prima abbiamo visto Chia Chia che è in terza posizione che già stanno doppiando alcuni atleti e qui invece Kipengetic che saldamente ha il comando vedete proprio il suo la sua corsa molto fluida molto si vede che non è molto stacco a vederlo così poi sai questi qui poi devono fare una stagione particolarmente impegnativa quindi non devono diciamo esagerare inizialmente ecco ricordavamo che contemporaneamente a questa gara qui a Canne si svolgeva un'altra maratona internazionale in cui il vincitore anche lì hanno fatto un'ora e tre il nostro El Kalili Yassin ha fatto 1,748 quindi insomma non male se fosse stato qui sarebbe arrivato terzo beh sicuramente la mezza di Canne è più prestigiosa sì sicuramente sì anche perché c'era qualche migliaio di atleti partecipanti che intanto vediamo le fasi diciamo quasi finali di questa di questa mezza maratona città di Fucecchio c'è da dire una cosa non lo so se dipendeva che era la domenica era più facile chiudere il traffico ecco qui non c'era un'auto una moto non c'era tutto chiuso completamente e questo questo è un insegnamento che viene fatto viene chiesto diciamo che è stato più facile perché il paese non è grande però non c'era una macchina a giro e quindi qui vediamo 1-3-40 per il vincitore Kipo Ingetice poi al secondo posto 1-4-36 per Kic ecco qui vediamo un pochino più appesantito però sempre non male come risultato poi al terzo posto invece l'altro keniano quindi tripletta kenyana per Chiaka eccolo qua ora vediamo anche qui abbastanza tranquilli comunque sono giunti al traguardo si hanno fatto sicuramente non hanno dato il massimo hanno fatto 21 km perché le devono fare e poi qui per il quarto posto primo degli italiani è andato proprio per l'atleta di Reggio francese e poi quinto e secondo degli italiani per Aibel Murad della Polisportiva di Policiano ecco dicevamo Moreno qui hanno permesso di poter disputare questa competizione anche perché c'era di mezzo proprio un'amministrazione comunale mi diceva l'organizzatore e quindi questa gara qui viene fatta insieme all'amministrazione comunale di Fuscecchio la quale ovviamente subentra anche nei costi dell'organizzazione stessa pertanto se i costi sono ricavati sono inferiori quello che manca l'amministrazione comunale quindi l'anno prossimo anche lui ha detto probabilmente se l'amministrazione continuerà a dargli supporto per vari motivi va benissimo altrimenti lascia andare tutto insomma questo dispiacerebbe intanto qui vediamo ancora gli arrivi dei vari concorrenti aspettiamo anche qui vediamo Farate vediamo anche il discorso aspettiamo l'arrivo della prima donna che dovrebbe essere in procinto di arrivare perché fra l'altro 1-13-33 quindi un tempo tutto sommato non male considerando che era soltanto era lei sola insomma ecco quindi vediamo anche Cannucci che è andato molto molto bene anche lui spazia dai cross le corse su strada le mezze maratone e qui esatto qui dovrebbe arrivare la Iven Lagatte vedete proprio l'altro in spinta 1-13-33 ecco qua ancora altri arrivi quindi dovremmo vedere poi anche la seconda concorrente che dovrebbe essere prossima alla ecco intanto vediamo Alessandro Annetti beh 1-18 1-17-23 3 per Alessandro Annetti poi a seguire eh anche per Giacomo Ragazzini 1-18-30 ecco qui vediamo anche Giacomo Ragazzini era partito forte era partito a un certo punto poi abbastanza sale l'arrivo sale appena appena ma è un po' salito comunque soddisfatto poi abbiamo Cristian Taras che vince insieme alla Volpi Francesca la staffetta mista quindi anche questa diciamo è una novità che verrà copiata anche per la mezza maratona di Arezzo intanto vediamo la Vannucci al secondo posto staccata di pensate di 9 minuti quindi insomma belle e poi e poi la terza la terza classificata invece che la Martelli Martina mentre undicesimo posto bene diciamo la Nicoletta Sanarelli della Polizia del Campino di Acima Assoluta è terza di categoria quindi direi un buon risultato anche per Nicoletta Sanarelli che sicuramente eccola qui vediamo proprio al traguardo sempre molto sorridente ancora sempre in spinta però riesce a spaziare benissimo anche lei dalle istanze breve a quelle un pochino più lunghe è costante proprio su tutte le gare va bene e quindi ecco siamo quasi un po' alla fine anche di questa trasmissione ricordiamo che il prossimo appuntamento di aprile di marzo sì di marzo intanto vediamo anche Moreno abbastanza crisi a San Zeno invece la camminata della Valdichiana sarà quest'anno un pochino più lunga 15 km rispetto ai 14 che avevamo previsto una partenza diciamo più spettacolare intanto vediamo proprio ecco l'Ambruschini insieme ai protagonisti maschili e femminili e dicevamo per quanto riguarda questa competizione la partenza alle 10 ci saranno la partenza solo degli a categoria oro che faranno 9 km poi c'è una camminata una camminata sportiva c'è la possibilità di fare un po' di tutto in quella circostanza quindi 24 marzo a San Zeno partenza alle ore 10 buona serata a tutti alla prossima trasmissione a San Zeno